Vendita, assistenza e riparazioni di motocicli e biciclette Manca abbigliamento moto e caschi Cavallini Moto è il negozio giusto per tutti gli amanti delle due ruote A Voghera, in piazza Garibaldi 12 Voghera è impegnata all'interno della serie di eventi di Autunno in Castello 2016 Gli appuntamenti sono tanti, vogliamo citarne qualcuno? Come associazione noi abbiamo ritenuto importante questo spazio culturale all'interno della città e quindi interverremo con due eventi musicali diversi tra loro quindi ci sarà un po' per tutti i gusti Il primo evento sarà domenica sera, domenica 25 con un giovane ma estremamente promettente musicista della città Federico Lisandria Il secondo evento è invece tra musica e letteratura Si chiama Trovatori Giullari e Cantautori e ha come protagonisti Giorgio Macellari e Mary Viscardi È un percorso che ha una dimensione europea sicuramente in quanto i trovatori provenzali sono proprio alla radice, all'origine della poesia d'amore di tutte le letterature europee e anche altre radici invece profondamente inserite nell'oltrepò in quanto il castello di Oramala agli inizi del 1200 ha ospitato trovatori provenzali che hanno prodotto quindi nel nostro territorio testi molto importanti quindi un percorso europeo e oltre padano nello stesso tempo e questa vuole essere un po' la nostra dimensione culturale profondamente radicati nel territorio e aperti ad una dimensione europea della cultura Il protagonista della serata Giorgio Macellari è proprio qua con noi Volevo chiedergli come mai il sottotitolo dello spettacolo della serata è da Cantautori a Macondo So che c'è un significato particolare Sì, certamente perché si collega idealmente questo titolo, questo sottotitolo che è preso dal mio ultimo CD in realtà è il contrario nel mio ultimo CD è da Macondo a Cantautori ma qui dopo appunto il percorso di cui parlava adesso Attiglia Vicini che lega le tematiche dei trovatori ai cantautori moderni il mio lavoro, questo mix di musica, letteratura e storia si collega idealmente perché da Canturburi a Macondo perché questo mio lavoro si ispira a personaggi della storia e della letteratura e Canturburi si riferisce a una canzone in particolare nella quale Sigerico, o Sigerico che dir si voglia l'arcivescovo che nel 990 andò a Roma a ritirare il palio della dignità arcivescovile dal Papa e nel viaggio di ritorno creò la famosa via francigena suddividendo il proprio cammino in 90 tappe racconta le proprie emozioni passando attraverso il nostro territorio e quindi è per questo motivo che abbiamo detto da Canturburi a Macondo perché? Perché un'altra canzone del mio album è dedicata a Cent'anni di solitudine di Gabriel Garcia Marchez e quindi al villaggio di Macondo che nasce, prospera e si sviluppa insieme con il personaggio di Aureliano Buendia e altri e con la ruota del tempo che continua a girare e rigirare Vogliamo ricordare l'appuntamento per quanto riguarda questa serata con Giorgio Macellari, quando sarà? Dunque sabato 1 ottobre e quindi ci teniamo a sottolineare l'importanza di creare in uno spazio storico qual è il castello, qualche evento che abbia un legame con l'epoca in cui il castello è nato quindi c'è una dimensione medievale nel percorso che noi facciamo anche se forse sarà una sorpresa per molti vedere quanta affinità ci sia tra alcune tematiche affrontate dai trovatori provenzali e quelle affrontate dalla moderna canzone d'autore quindi vedremo lo stesso tema in Guglielmo Nonno da Quitania e in Lucio Battisti È un'influenza Ma assolutamente, assolutamente perché il linguaggio della poesia d'amore che nasce con i trovatori provenzali arriva ai cantautori del Novecento e non a caso Fabrizio De Andrè è stato definito l'ultimo trovatore Grazie